Beni immobili e quote sociali per un valore di circa un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ragusa ad un imprenditore vittoriese accusato di evasione e frode fiscale. L'uomo opera nel settore della fabbricazione e commercializzazione di imballaggi per prodotti ortofrutticoli. Il sequestro preventivo è stato emesso dal GIP di Ragusa che ha accolto la richiesta avanzata dalla locale procura della Repubblica. Il sequestro è scaturito da una pregressa attività ispettiva condotta dalle fiamme gialle Iblee che ha permesso di contestare all'imprenditore l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzato all'indebita deduzione di costi e la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto attraverso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi fraudolente riferite al 2014-2015. Il valore del sequestro disposto corrisponde alle imposte evase sia in materia di imposizione diretta che in materia di imposta sul valore aggiunto. Il milione di beni sequestrati era nella diretta titolarità del reo o riconducibile allo stesso per interposta persona.